Ave Maria La Madonna di Foligno è uno dei dipinti più straordinari di Raffaello, commissionato da Sigismondo dei Conti, segretario di Papa Giulio II. Il dipinto è il primo grande dipinto pubblico che Raffaello fa per la città di Roma. Già da quattro anni in Vaticano Raffaello era però poco noto al pubblico romano. L'opera è straordinaria, si ispira alla leggenda aurea e all'apparizione della Vergine Maria sul colle Capitolino il giorno del Natale di Gesù. Assistono a questa meravigliosa apparizione nel dipinto di Raffaello, Sigismondo dei Conti, committente dell'opera. Dietro di lui San Girolamo, primo segretario della storia del Papa. Dalla parte opposta troviamo un San Francesco meraviglioso, omaggio ai francescani e sacerdoti dell'Araceli. Dietro San Francesco un San Giovanni Battista bellissimo con una dinamica anatomica, una fisicità veramente molto forte che indica con il dito, così come abbiamo già visto nel dipinto di Leonardo da Vinci, l'arrivo del profeta, del Gesù che è sopra di lui, di fronte a lui, se parliamo dal punto di vista storico. L'opera ha un meraviglioso paesaggio. Gli storici dell'arte si sono a lunghi interrogati su che cosa rappresentasse esattamente un'immagine ideale della città di Foligno, città del committente, luogo probabilmente di un evento straordinario che vediamo rappresentato sul fondo un meteorite, un oggetto molto ben dipinto da Raffaello, forse una bombarda, comunque un oggetto che ha un significato importante per l'opera perché la sua rappresentazione è molto corretta, molto precisa. Quindi un ex voto per uno scampato pericolo. Potrebbe essere questa l'interpretazione. C'è chi ha voluto vedere invece, legandosi proprio al Natale di Gesù, nel fondo del dipinto una rappresentazione ideale di Betlemme e nell'oggetto che proviene dal cielo una cometa. Gli studi sono sempre aperti, questa è una delle cose più interessanti. Chi verrà a trovarci troverà un'opera esposta in maniera ideale. La scelta dell'allestimento quest'anno pone il quadro molto in basso e quindi abbandona anche dal punto di vista filologico l'idea della pala d'altare che ci lega alla Racelli. Abbiamo voluto che il pubblico che viene a trovare il dipinto qui a Milano si trovi immerso nella scena che Raffaello ha dipinto, cioè si trovi parte della scena che Raffaello ha ideato. Dietro il dipinto potrete vedere, i visitatori potranno vedere, una parete tecnica molto spettacolare e con un livello scientifico molto alto. Noi possiamo proiettare delle immagini di grandissimo livello, di grandissima risoluzione e poter dare delle notizie relative al restauro e alla tecnica esecutiva veramente un po' eccezionali. Questa possibilità di poter vedere così da vicino un'opera, anche attraverso queste proiezioni, rende secondo me questa mostra un po' speciale. Con la Madonna di Foligno Eni inaugura un nuovo parternariato con la grande istituzione dei Musei Vaticani. Dopo quattro anni di meravigliosa collaborazione con il Louvre, quest'anno i cittadini milanesi e tutti quelli che stavolano in città potranno vedere un'opera proveniente da questo grande museo. Grazie a tutti.